Questo è l'ultimo video sui disturbi elementari trattati con la terapia breve centrata sulla soluzione in cui parliamo dei diversi stadi del cambiamento in cui si può trovare la paziente e qui parleremo della fase, dello stadio dell'azione e di quella del mantenimento o della ricaduta. Innanzitutto se hai visto gli altri video ti sarà chiaro che come terapeuta devi monitorare costantemente in che fase del cambiamento si trova la tua paziente perché a seconda dello stadio del cambiamento ci saranno diverse cose che potrai fare. Quando una persona si trova nella fase dell'azione generalmente l'obiettivo viene definito congiuntamente e in maniera abbastanza semplice e la persona ha voglia di fare qualcosa e pensa che deve fare qualcosa, è pronta a fare qualcosa e molto probabilmente farà qualcosa. È un'estensione dello stadio precedente che abbiamo visto nell'ultimo video, cioè lo stadio della determinazione. Spesso potresti già vedere usando le appropriate domande che la persona mostra dei cambiamenti. Se usi delle domande solution focus che puoi anche andare a ritrovare nel nostro libro Terapia Breve centrata sulla soluzione principi e pratiche, puoi vedere, puoi fare emergere delle cose che la persona ha fatto e che la stanno aiutando rispetto al suo problema. Il tuo compito a quel punto sarà soprattutto quello di amplificarle, fargliele fare sempre di più. Fai allora domande su azioni e interazioni centrali, virtuose, che stanno aiutando la persona ad andare verso il suo goal, verso l'obiettivo che avete concordato insieme ma che è lei che probabilmente ti ha già portato. Se la persona si trova in questo stadio le tue domande possono essere dirette e molto specifiche. Per esempio, dimmi come hai fatto a mantenere questo cambiamento davvero significativo? Oppure, che cosa stai facendo di diverso e di positivo quando hai l'urgenza di vomitare? O ancora, dimmi nello specifico che cosa hai fatto l'ultima volta in cui hai avuto quest'urgenza o in cui sentivi di perdere il controllo e sei invece riuscita a trattenerti? Ancora, beh, saresti potuta andare a comprare tutta la roba da mangiare e vomitare ma non lo hai fatto. Spiegami bene come hai fatto a evitarlo. E ancora, cos'è che devi fare adesso per continuare a mantenere questa rotta? Come vedi il tuo lavoro qui è relativamente semplice, nel senso che la persona ti porta già delle cose, è consapevole che le sono di aiuto, più o meno consapevole, ma soprattutto le fa perché pensa che sia la strada giusta per poter arrivare a una soluzione finale, risolutiva del problema in sé. Ecco perché tu devi fare domande per amplificare, per aumentare, rafforzare questa consapevolezza. Nello specifico Barbara McFarlane dice che in questa fase ci sono tre tecniche che devi utilizzare che ti saranno di aiuto. Uno, riassumi e ripeti lentamente i cambiamenti che la persona ti ha portato. Per esempio, aspetta, se ho capito bene, tu ieri, cito le tue parole, ti sei detta, fermati Maria, non devi andare a prendere quella roba da mangiare e vomitare, fermati qui. Come hai fatto a farlo? Seconda tecnica, chiedi alla paziente di ripetere quello che ha fatto. Numero tre, fai complimenti per i comportamenti positivi messi in atto e dalle supporto per continuare a mantenerli. Per esempio, sono davvero colpito di quello che hai fatto e che ti è stato di aiuto in questi giorni. Non è stato semplice, mi immagino, il duro lavoro che ci hai voluto e questo mi fa capire quanto ti stai impegnando. Se hai letto libri come Il linguaggio del cambiamento di Paul Watzlawick, sai che le prime due in particolare sono delle tecniche molto semplici ma che aiutano a rafforzare i comportamenti positivi, anche magari inducendo una leggera tranza. Farò un video a breve sul linguaggio suggestivo. E il secondo, e scusate il terzo, insieme al secondo e al primo, aiuta anche quello a rafforzare i comportamenti positivi. Quello che devi fare in questa fase, lo ripeto per la terza volta, è davvero soprattutto questo, cioè aiutare la persona a identificare e amplificare quello che funziona e che sta già facendo. E poi c'è l'ultima fase, la fase di mantenimento ricaduta. La paziente si trova in questa fase quando identifica dei miglioramenti, te li riporta in seduta e sa anche che cosa fare o comunque sa più o meno cosa fare per evitare delle ricadute. E cosa devi fare tu come terapeuta? Uno, identificare dei possibili ostacoli. Ti aiuterà a identificarli tu stesso ma aiutare la paziente a identificarli, magari con le tre tecniche che ti ho detto prima, facendogli ripetere a lei e facendoteli dire nel dettaglio. Due, continuare a evidenziare, amplificare, rinforzare i cambiamenti positivi. Tre, aiutare la paziente a sviluppare il suo piano di azione per le ricadute. Lei chiederai che cosa sono gli ostacoli che si potrà trovare di fronte, quali potrebbero essere e che cosa potrà fare per andare oltre, per superarli. Quattro, lasciare la porta aperta. Chi ha studiato con noi la terapia sulla singola o ha letto il libro terapia sulla singola, principi e pratiche, sa che questo è proprio un mindset. Il mindset del lasciare la porta aperta, del non devo fare tutto e subito, del devo consegnare alla persona la possibilità di essere in grado, lei, di scegliere il percorso, quanto deve durare. Che non significa sottrarti da una parte di consolidamento, ma significa aiutare la persona a riappropriarsi delle proprie competenze e stabilire un tipo di relazione per la quale, se dovesse aver bisogno di aiuto, si sentirà capace di tornare da te, si sentirà non giudicata, si sentirà che le hai dato potere e che quindi anche a distanza di tempo, se dovesse esserci una ricaduta, non si sentirà accusata da te o non sentirà che magari sarai delusa da lei. Come vedi, in questa fase del cambiamento, quello che serve soprattutto è rinforzare il cambiamento stesso, rinforzare quello che sta funzionando. Possono servire delle strategie specifiche, per esempio potresti usare la tecnica del come se, viene utilizzata soprattutto in terapia strategica, ma in questa fase va bene anche in una solution, chiedere alla persona di comportarsi come se fosse un gradino più in su o come se il problema fosse completamente risolto e in più puoi fare, come anticipato prima, un vero e proprio piano della ricaduta. Aiutare la persona a anticipare il fatto che potrebbero esserci o anche a pianificare cosa potrebbe fare se ci fossero sarà di grande aiuto perché farà sì che la persona non sarà accolta impreparata e soprattutto non avrà quella situazione che abbiamo visto negli altri video in cui o tutto o niente, in cui un minimo errore viene considerato un ritornare a zero nella scala, quando invece magari è semplicemente un passetto indietro, magari anche normale, magari anche di aiuto. Il piano, fallo fare a lei, aiuta la porta avanti, falle le domande giuste, ma faglielo compilare a lei perché così sarai sicuro che è calzato sulle sue necessità, sul suo modo di interagire, sul suo modo di considerare le cose, non è qualcosa che le dai tu e che se non le va bene magari finirà per essere un po' troppo stretto o un po' troppo largo. Nello stadio precedente che abbiamo visto all'inizio di questo video, lo stadio dell'azione, puoi anticipare già il fatto che ci potrebbero essere delle ricadute, puoi normalizzarle, direi normale che ci possano essere, e puoi sottolineare il fatto che richiede duro lavoro. Infatti se hai visto gli altri video saprai che spesso queste pazienti tendono a minimizzare i piccoli cambiamenti, a non considerarli molto importanti, e invece un lavoro che c'è da fare è fargli notare che anche un piccolo cambiamento per loro è un grande sforzo, ti serve a sintonizzarti e ti serve anche appunto a far sì che se si trovano di fronte a un inciampo, un passo indietro, sapranno che è qualcosa di normale, sapranno che stanno scalando l'Everest e arretrare di qualche metro ogni tanto non è così male. Con questo video abbiamo chiuso i video sugli stadi del cambiamento nella terapia con le pazienti che soffrono di disturbo alimentare, l'abbiamo visti tutti quanti e spero che ti siano stati di aiuto. Lasciami qualche commento, attiva le notifiche e la campanellina per vedere i prossimi video perché parlerò ancora di disturbi alimentari, oltre che di altre tematiche di terapia breve e domandati sempre il mio cliente in che stadio del cambiamento si trova.